Poco fa ho ricevuto alcune chiamate anonime con minacce e offese da un gruppo di persone in evidente stato di alterazione psicofisica. Domani mi rivolgerò alla procura ed al prefetto. Non mi farò intimidire da minacce e offese anonime, ma è grave che qualcuno si permetta nel cuore della notte di minacciare un sindaco di morte. A Sacco si è passato il segno. Sono le parole del sindaco di Sacco, Franco Lapenta, scritte sulla sua pagina Facebook in merito al grave episodio avvenuto nella giornata di ieri. Tanti messaggi di vicinanza e solidarietà che in queste ore il primo cittadino sta ricevendo, apprendo con sgomento che il collega sindaco del comune di Sacco, l'amico Franco Lapenta, è stato oggetto di minacce telefoniche. Lo fa sapere il sindaco di Orria, Mauro Inverso, a nome mio personale dell'intera amministrazione del comune di Orria e anche in qualità di presidente a nome dell'intero CDA del GAL Cilento Regenerazio, esprimo al collega sindaco tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Nello stigmatizzare il grave fatto, continuo inverso, auspichiamo che si tratti comunque di un episodio isolato e sul quale possa essere presto fatta piena luce. Questa vicenda rappresenta in ogni caso un inquietante attacco alla libertà democratica e alla capacità di azioni che ogni amministratore locale deve avere per rappresentare al meglio e con la necessaria serenità le istanze dei cittadini, da quali siamo stati delegati a ricoprire ruoli di carattere istituzionale. Ribadisco e confermo la piena solidarietà al sindaco amico Franco Latempa, conclude Mauro Inverso, sindaco di Orria, auspicando che possa continuare con serenità e con il solito impegno quotidiano le attività politica e amministrative del suo paese.